Siamo qui al Cinema Zenit di Perugia con Diletta Pauretti, coordinatrice del Circo di Libertà e Giustizia di Perugia. Ha organizzato questo evento, la proiezione di Arance e Martello. La prima domanda che mi viene in mente è perché avete deciso di utilizzare questo film, ma in generale che cos'è Libertà e Giustizia? Sì, dunque, Libertà e Giustizia è un'associazione di cultura politica, ci occupiamo di vari temi, tra cui la cittadinanza, la partecipazione democratica e la Costituzione. Però ci piace farlo con un linguaggio diverso questa volta, affidandoci alle immagini e alle riprese di Diego Bianchi, perché sappiamo che lui è un osservatore attento della realtà politica del nostro paese e in particolare della percezione che i cittadini hanno della politica. Quindi, insomma, è un modo nuovo e diverso per parlare dei soliti temi di Libertà e Giustizia. Siamo qui al Teatro Zenit di Perugia, all'evento organizzato dal Circo di Libertà e Giustizia con Diego Bianchi in Artezzoro, che è venuto a presentare qui il suo primo film, Arance e Martello. La prima domanda molto originale che mi viene in mente è, da YouTube, passando per la TV, come mai hai deciso di fare questo film? Perché? Scusa, è da ridere. Perché hai deciso di fare questo film? Perché c'era una storia che mi piaceva e che mi andava di provare a raccontare, è una storia di finzione, insomma, per quanto molto verosimile. È una storia di finzione, dopo aver giocato con tante sceneggiature piccole, insomma, con Toleranza a Zoro e cose che hai citato, eccetera, eccetera, e volevo provare a fare una cosa di più ampio respiro con degli attori veri, insomma, è una storia più o meno inventata. Ovviamente l'ho fatto non perché avessi la frenesia di fare il cinema e dovessi conquistare un'altra tappa di una qualche scalata, ma perché poteva essere una storia raccontabile al cinema. Ovviamente poi è piaciuta la Fandango e questa cosa si è realizzata. Secondo te qual è l'elemento caratteristico, quello più vicino a te riguardo a questo film? Il montaggio, la scelta magari di parlare del PD, la descrizione dei personaggi, di aver portato un po' la parte del tuo gruppo di gazebo, quale secondo te è l'elemento per chi vorrebbe andare a vedere il film? Beh, allora, per me è uno, per chi vuole andare a vedere il film diventa un altro. Tu mi dici perché dovrebbe andare la gente a vedere il film? La risposta è perché è una storia molto popolare, insomma, nella quale ci si possono vedere, rappresentare in molti, insomma, che nonostante sia contestualizzata al 2011 racconta comunque cose estremamente attuali. Non so, è una spiegazione banale, però è così, insomma, il tutto con molta leggerezza, mediamente ci si diverte, però insomma, poi alla fine uno resta pure un po' così, magari a immaninconirsi, questo lo dico subito, ma questo vale per più o meno tutte le cose che faccio. E per me la cosa che mi rappresenta di più è che è una storia girata sotto casa mia, dentro casa mia, nei posti che vivo e abito da quando sono nato, quindi diciamo che è questo l'aspetto, al di là ovviamente delle storie, dei personaggi. Nel 28 sei tornato su Rai3 con Gazebo, adesso ci sarà un doppio appuntamento domenica e lunedì, la prima domanda che mi viene in mente è se sei contento di questo spostamento nel palinsesto e soprattutto il tuo modo di cambiare un linguaggio televisivo come quello del racconto della politica. Secondo te ti costringe ogni volta che esci a seguire un evento massmediatico, il circo mediatico, ti costringe a creare qualcosa di divertente anche quando non c'è? Oppure proprio questo circo massmediatico è talmente divertente e ridicolo che basta uscire con la telecamera e poi montare? Sei contento? No, nel senso che uno poi trova il modo di diventarci contento, insomma state facendo, però è innegabile che noi siamo al terzo anno e sono tre volte che cambiamo collocazione nel palinsesto e questo non faciliterebbe nessun programma, neanche il Festival di Sanremo, se la finale la facessero invece che di sabato o di mercoledì probabilmente avrebbe qualche difficoltà, nel senso che devi creare un'abitudine intanto in chi ti segue. Per fortuna noi il nostro zoccolo duro e chi ci segue ce l'abbiamo sempre e però mi rendo conto che costringiamo loro a fare continui sforzi per capire dove siamo, dove siamo finiti. Dopodiché abbiamo comunque domenica e lunedì, abbiamo cominciato con la prima domenica e prima lunedì, anche per noi cambia un po' il modo di lavorare rispetto alla striscia infrasettimonale che facevamo l'anno scorso però insomma va bene, abbiamo fatto due puntate, siamo divertiti, siamo andati bene, il pubblico c'è stato, si può migliorare, si può sempre peggiorare ma insomma si deve migliorare sempre. Poi avremo degli appuntamenti in prima serata, il primo il 24 ottobre e quella sarà una nuova sfida totale. Ci vuoi anticipare qualcosa? Non so cosa anticiparti nel senso che non è che è per segreti aziendali o industriali ma perché veramente la stiamo costruendo insomma. L'altra domanda che mi hai fatto sul circo mediatico, ma lì il circo mediatico ecco diciamo che ho rifatto il battesimo dell'annata andando a seguire la direzione PD l'altro giorno lunedì o perlomeno l'ingresso, l'arrivo dei protagonisti, insomma di chi stava lì ed il circo mediatico diventa ogni mese un po' più grande perché se vuoi questo è anche per fortuna nel senso che oltre alle televisioni ci stanno telecamere tipo voi, le radio, le web tv, insomma ognuno con la propria titolarità a starci e a raccontare se vuoi anche meglio del Tg1 quello che succede. Però quantitativamente la cosa si vede proprio a vista d'occhio insomma. Prima eravamo in 10, poi ora in 20, ora stanno in 100, le persone sono sempre stesse e si creano situazioni surreali per cui arriva Realacci che magari non è proprio quello che uno è e viene affossato da telecamere circondate e uno dice ma che stiamo tutti qua a sentire Realacci, insomma tra l'altro sono notizie che poi spesso dichiarazioni che hanno una vita brevissima di pochi secondi, ma non per Realacci, io dico chiunque la faccia, insomma effettivamente c'è un'esagerazione, quello che faccio io è ovviamente oltre alla ricerca del contenuto laddove questo contenuto ci sia e far vedere anche tutto quello che c'è dietro per cui come si fanno tutte queste cose ovviamente non in maniera critica come su tutto ma non superiore ecco cioè io faccio parte del circo mediatico a tutti gli effetti, non me ne tiro fuori anzi diciamo che li considero i miei per certi versi veri colleghi, insomma perlomeno colleghi tanto quanto altri, insomma gente che sta per strada a farsi il culo per tirare fuori della roba ecco poi chiaramente bisognerebbe cercare di inventare il meno possibile pur di avere delle cose, ma questo lo dico anche a me stesso, insomma. Proprio perché prima parlavi del web radio come noi di radiofonica.com, prima mi hai confessato prima di fare l'intervista che prima di andare a gazebo e di condurlo ascolti sempre un pochino della nostra radio, potresti fare un annuncio ai nostri ascoltatori perché noi ci chiamiamo come tu ben sai Radiofonica però con il PH, tutti quelli che vorranno cercare su YouTube questa questa intervista di cercarla con il PH, se puoi fare un appello. Cercate questa intervista col PH, al di là di queste interviste insomma cercate tutte le cose col PH e potrete eseguire costantemente questa programmazione heavy metal che voi fate sempre e che io ascolto tutti i giorni proprio. No non lo so, che fate sentire a Radiofonica? Principalmente parliamo di Diego Bianchi in Artezzoro. No vabbè, questo non penso che resta molti ascoltatori. Fate metal, vedi? Infatti c'è la faccia dei metallari, soprattutto lui. Non potete vederlo. Ringraziamo Diego Bianchi. Grazie a voi.